Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Kate Middleton si è presentata ad un evento senza l'anello di fidanzamento regalatole dal principe William. Pare che l'ultimatum della principessa non sia servito a fermare i continui tradimenti del marito. Scopriamo tutti i dettagli. La famiglia reale inglese sembra pronta a subire un altro pesantissimo colpo. Pare che William e Kate si siano lasciati a causa dei continui tradimenti del principe, la moglie stanca avrebbe deciso di togliersi anche l'anello della compianta Diana. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche, Claudio Amendola e la moglie Francesca Neri si sono lasciati, cosa è successo? Il principe William e Kate si sono lasciati? Bragiorni non si fa che parlare della presunta rottura tra il principe William e Kate Middleton. Le continue indiscrezioni su una crisi continuano a ripetersi e non vengono né confermate ma neppure smentite dalla famiglia reale. Foto, Chiocciola Duke and Duchess of Cambridge, e.g., Kate Middleton si è tolta l'anello di fidanzamento a dar motivo di credere alle voci sulla rottura e l'ultimo gesto di Kate Middleton che ha deciso di disparsi dell'anello di fidanzamento regalatole da William e appartenuto e Lady Diana. Kate, infatti, si è presentata ad un recente evento pubblico con la figlia Charlotte senza il prezioso regalo del marito. Un regalo importante, dall'immenso valore simbolico e non solo, di cui Kate Middleton non si è mai separata. Almeno fino ad oggi, Kate indossa ancora la fede nuziale. Per anni, però, non si era mai tolta il prezioso gioiello di zaffiri blu con il quale il William le ha fatto la proposta di matrimonio. Il principe William ha tradito la moglie? Il gesto di Kate Middleton lancia nuove ombre sul presunto comportamento scorretto del principe William. In caso di conferma, risulterebbe dunque fondate le voci di tradimento e crisi che da settimane si rincorrono a Londra. Stando ad alcuni pettegolezzi riportati dalla stampa inglese, infatti, il principe William sarebbe un marito infedele. L'erede al trono avrebbe più volte tradito la moglie Kate Middleton. Secondo quanto si legge su Express, Kate sarebbe stufa del comportamento di William e gli avrebbe dato un ultimatum. L'assenza dell'anello al dito di Kate è l'inizio della fine anche di questa coppia? Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di Per Scoprire in anteprima tutte le news in merito, Kate e William si sono lasciati, che fine ha fatto l'anello di Diana e tutti i dettagli sui presunti tradimenti del principe. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!